E allora ritorniamo in onda puntuali alle 9.40 come vi ho detto per ragionare di questioni che hanno a che fare con l'Italia che è un territorio che ho toccato poco nell'ambito della puntata di oggi purtroppo un brutto argomento riguardo all'Italia Non certo un'esclusiva per carità ma ci soffermiamo quantomeno sul nostro paese perché di recente il tema del femminicidio è purtroppo tornato come dire sulle prime pagine se ne è di nuovo parlato molto forse se ne parla se ne continua a parlare non tanto bene ma questo forse è anche un argomento su quale ci soffermeremo in questa intervista per ragionare di questi argomenti e raggiungiamo l'attivista transfeminista Anna Belligero intanto ciao benvenuta qui su Play Ciao buona giornata a tutti e tutte Buona giornata a te grazie a te se chi ci ascolta chi ci guarda magari in passato ha sentito qualche puntata di la versione di Penelope che conduceva Corinne Benesh magari questa voce questa questa faccia non vi sono non vi sono nuove ma andiamo appunto a ragionare non tanto sul caso singolo anche perché appunto questo questo questa intervista vuole proprio cercare di lasciare da parte la cronaca nera racconto che ogni tanto mi suona anche un po' cinematografico di questi di questi quando si parla del giallo insomma qualcosa che forse dobbiamo lasciarci un po' un po' indietro volevo invece chiederti qualche ragionamento più più generale insomma non ci sono non è soltanto un caso singolo sono tanti purtroppo questi tipo di 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 omicidio ci puoi dare qualche dato rispetto al 2000 e 2024 sì dunque grazie innanzitutto per l'accortezza con cui hai preparato diciamo questa introduzione proprio mettendo in discussione le modalità con cui viene generalmente invece introdotto o viene portato all'attenzione pubblica da parte dei media proprio il fenomeno di femminicidi transcidi e lesbicidi che appunto viene quasi sempre insedito all'interno di notizie di cronaca nera o raccontati come se fossero delle saghe no? penso adesso per esempio alla questione di Verzeni di Sharon Verzeni è è imbarazzante la modalità con cui viene raccontata con cui stanno seguendo questo questa pornografia quasi no? nei confronti del dolore delle di quello che accade cioè per cui siamo lì a seguire passo passo dove è tizio dove è caio dove è sempronio che non mi interessa cioè il punto non è raccontarla in questione questo modo qui non interessa non a me in quanto Anna ma appunto a me in quanto eh attivista e quindi ad oggi se dobbiamo parlare di numeri ehm io appunto sono un attivista e eh sono milito diciamo sono attivista all'interno di non una di meno e eh non una di meno ha deciso da un paio d'anni di dotarsi di un osservatorio che ehm viene aggiornato ogni otto del mese perché appunto stiamo parlando di un movimento di una rete eh fondata su persone volontarie e dunque non è semplice riuscire come dire a tenere le proprie vite il proprio lavoro e anche un lavoro di questo tipo che richiederebbe invece un'attenzione costante e quotidiana però dunque fino all'otto di agosto noi sappiamo che il numero totale di eh persone uccise eh all'interno appunto eh della categoria di femminicidio, transcidio e eh lesbicidio sono sessantatré. purtroppo sono sicura del fatto che in questi eh quindici giorni il numero sarebbe già da aggiornare così come ogni mese noi ogni otto del mese cerchiamo anche di essere eh visibili nelle strade delle città in cui esistono dei nodi della rete proprio per eh provare ehm a manifestare la nostra rabbia nei confronti di questo fenomeno che ancora non siamo stati in grado di eh arginare o di anche solo elaborare esattamente anche solo elaborare esattamente come andrebbe fatto per cui appunto la questione di come vengono riportate le notizie di come si parla di questa forma di violenza che è una forma di violenza che quasi sempre ha un escalation che termina con l'annientamento della vita della persona. dico della persona perché appunto eh parliamo di categorie che eh non sono riconosciute ad esempio dai dati ufficiali perché c'è questo osservatorio? perché all'interno eh dei dati ufficiali si parla solo e esclusivamente di persone che sono nate donne e quindi registrate come donne con sesso e genere femminile che coincidono eh all'anagrafe al momento della nascita e non invece al momento della morte e invece come sappiamo ad oggi della morte dell'assassinio ecco e ad oggi esiste la possibilità per tutte noi e per tutti noi di eh decidere liberamente di voler cambiare il nostro genere e quindi delle persone che sono nate in un corpo ad esempio maschile e che poi decidono di modificarlo perché eh si sentivano invece donne non sempre sono riconosciute all'interno di quei numeri ed è questa la ragione per cui esiste questo osservatorio e noi parliamo non solo di femminicidi. Sì esatto e anche lo noto in questi giorni ho cercato insomma un po' scartabellato archivi per cercare di capire altri conteggi e ci sono dei dati del ministero dell'interno ma appunto non hanno questa questa specifica che che dicevi tu oltre al fatto che sono molto difficili da esplorare questo un po' come tu quasi tutti i dati a prescindere dalla dall'argomento quindi invece avere una piattaforma eh molto più di molto più facile consultazione appunto su sul sito di non una di meno è un po' più eh è un po' più semplice quindi hai fatto anche un po' di chiarimento rispetto a alle diciture che voi che voi elencate se già sul termine femminicidio c'è molta discussione non oso immaginare che cosa una certa parte della popolazione italiana abbia da dire sulle altre altre categorie che 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 avete incluso ehm molto spesso quando si parla di questi argomenti per fortuna non soltanto del femminicidio ma altri eh argomenti che hanno a che fare con la discriminazione penso ad esempio sul lavoro eh in termini di salario eccetera eccetera quello che mi viene sempre detto che alla base eh c'è una questione culturale cioè è chiaro che c'è nel momento in cui c'è c'è un femminicidio o insomma quasi io su omicidio a dire il vero c'è un colpevole e c'è una vittima è chiaro però poi tutto questo avviene all'interno di una cultura e di una e di una società e ogni volta mi si dice quello che deve cambiare la cultura la politica rispetto a questi temi e quindi ho un po' paura a chiedertelo ma insomma intravedi questo cambiamento? Allora faccio solo eh se me lo consenti un piccolissimo punto sulla ragione per cui eh si decide di tenere tutto assieme e che poi fa riferimento anche alla cultura di cui hai parlato e teniamo tutto assieme perché alla base di quello c'è la cultura patriarcale cioè tutto quello che si verifica per quelle ragioni si verifica perché siamo all'interno di una società patriarcale. Azzardo un paragone eh proprio per andare come dire per provare in qualche modo a decostruire eh la logica la la narrazione che viene fatta da chi invece osteggia no? se penso a titoli di alcuni giornali contro appunto il termine femminicidio il lo tempere oggi almeno su questo eh fosse anche soltanto per una questione di vergogna non si fa più però su tutto il resto invece transicidio o lesbicidio sono ovviamente delle parolacce impronunciabili per alcuni per un certo tipo per una certa parte politica e dunque per una certa stampa. azzardo quindi un paragone. Quando eh siamo abituati da tantissimo tempo all'idea che esistano delle pratiche eh di eh assassino che sono eh appunto all'interno di un certo tipo di cultura che è la cultura mafiosa. ci abbiamo messo tanto io non sono una giurista mi occupo di tutt'altro nella vita sono un insegnante però come dire mh alcune riflessioni eh vengono eh vengono naturali se poi ti occupi di queste cose. e noi sappiamo che un certo tipo di omicidi assassini avvengono con quelle modalità e avvengono perché sono il frutto di quella cultura lì quindi la cultura del tradimento eh dell'appartenenza alla famiglia che a un certo punto viene rinnegata no? e il fatto di non perdonare quella libertà che si va ad esercitare quando si vuole uscire da eh diciamo dalla cerchia mh dalla famiglia come si direbbe appunto eh per usare proprio il termine esatto. questa è la stessa cosa cioè le donne, le libere soggettività che provano a tirarsi fuori dalla cultura patriarcale esercitando la propria libertà vengono in alcuni casi per fortuna non in tutti vengono eh a loro viene impedito questo. proprio perché è questo l'elemento che volevo aggiungere proprio sulla questione della cultura altrimenti è difficile da capire siccome con la mafia un po' di eh di mistichezza ce l'abbiamo e anche dal punto di vista legislativo diciamo eh come dire è una cosa di cui si parla da tanto tempo magari in paragone di questo tipo può aiutare a comprendere che cosa significa quando una cultura è davvero così tanto introiettata all'interno di una società al punto da non riuscire neanche a vederla più. Sì sì. E nel frattempo però mi sono mi sono dimenticato. No veda così. No mi pare un mi pare un ottimo mi pare un ottimo parallelo nel senso che non penso ci sia nessuno spero davvero che non ci sia nessuno che immagini che Paolo Borsellino sia stato ucciso da insomma perché ci ha raccontato. Qualcuno che ce l'aveva con lui ed era un caso isolato e non aveva che non aveva nulla a che fare con con il suo lavoro chiaramente insomma spero che che questo che questa che questo paragone funzioni no? Ti volevo chiedere appunto questo è il punto di partenza e che purtroppo è il punto di partenza da molto tempo intravedi qualche scherchiolio. Ok esatto scusami me l'ero dimenticata nel mio volo pindarico e allora è difficile rispondere a questa domanda perché da un lato assistiamo al fatto che il fenomeno lo chiamo fenomeno anche se appunto non mi piace moltissimo come termine è diventato mainstream. Se ne parla e se ne parla male molto spesso come abbiamo appena detto sulla questione di Sharon ma e notizie di oggi quella di Nicoletta Rotaru abbiamo appena scoperto che non si è trattato di un suicidio è stata uccisa un anno fa ma soltanto oggi dopo un anno di silenzio tra l'altro da parte diciamo dell'apparato giuridico che se ne stava occupando scopriamo oggi che invece non si è trattato di un suicidio ed è una di quelle cose che molto spesso ormai siamo abituati a dire quando come dire a immaginare che di fronte a una donna uccisa quasi sicuramente chi l'ha fatto è un uomo che era molto vicino a lei. Cioè io la sento proprio questa cosa nelle mie amicizie, nelle mie frequentazioni cioè è quella roba che dici ok sì vabbè ma tanto si sa sarà stato un ex o sarà stato un padre benissimo allora questo l'abbiamo assimilato. Il punto è fare un passetto avanti cioè non solo parlarne e parlarne male ma rispetto a questo questo accade per tantissimi temi ognuno di noi fa il suo pezzo quindi noi proviamo a fare in modo che se ne parli invece nella maniera giusta, corretta, adeguata che renda giustizia appunto anche alle vittime. Però appunto allo stesso tempo il punto non è solo che se ne parla male ma che non si ragiona dal punto di vista proprio non si ragiona in maniera approfondita di quali sono invece le ragioni, le dinamiche che vanno poi a scatenare questi esiti. E quindi qual è che stiamo parlando banalmente, brutalmente di una dinamica di potere a cui facevo riferimento un attimo fa cioè se continuiamo a vederli come dei casi di emergenza, di cronaca nera in cui semplicemente abbiamo un mostro da una parte e una povera vittima dall'altra abbiamo sbagliato tutto. Il punto è che dobbiamo iniziare, si è già fatto, un piccolo inizio c'è stato rispetto a questo altrimenti saremmo iperdepresse invece come dire un pezzo di lavoro del movimento femminista condotto nel mondo, in Europa e in Italia negli ultimi vent'anni ha fatto sì che almeno alcuni termini sui quali poi tu ti devi interrogare perché quando io per esempio a scuola nel mese di novembre con i miei ragazzi e le mie ragazze parlo di femminicidi io devo spiegare loro, loro si chiedono come mai perché c'è questo termine, perché non parliamo semplicemente di un omicidio e quindi in qualche modo come direbbe Nanni Moretti le parole sono importanti perché veicolano dei messaggi e ti pongono nella condizione di interrogarti sul perché quella parola è stata coniata, quella parola esiste e che messaggio porta dietro. Il lavoro da fare è ancora tantissimo ed è da fare, poi ho chiuso, almeno su questa domanda poi non so se ce ne saranno altre e la cosa più importante sarebbe quella di intervenire appunto già a partire da quando le persone sono molto piccole quindi provando a inserire un'educazione sesso affettiva, questa è una cosa che io dico continuamente sia per il lavoro che faccio ma anche perché ritengo che sia fondamentale insegnare da quando siamo piccoli e piccole la dinamica di potere come funziona e quindi come se ne può uscire perché è tutto lì. E qua forse inserisco il mio pessimismo perché insomma sull'arrivo di questo tipo di educazione purtroppo non solo non la vedo all'orizzonte non la vedo neanche molto più dietro dell'orizzonte insomma ci sarebbero tantissime cose da dirci ma il tempo radiofonico stringe quindi magari ci sarà modo per ritornare su questi argomenti magari parlando di qualcosa di un po' più ottimistico sperando insomma che ce ne sia che ce ne sia l'opportunità ma insomma grazie mille davvero a Belligero per questa bella chiacchierata grazie davvero alla prossima grazie grazie a voi arrivederci